Hola hola! Pele grassa, incarnato lucido, lo detesti? Come risolvere che prodotti utilizzare? Subito in questo video te lo spiego subito il video! Benvenuti, bentornati un'altra settimana qua a parlare di skin care, di creme, di bellezza, di cosa utilizzare, di cosa comprare in questo mare di prodotti. Di parafarmacie, farmacie, negozi online, profumerie, eccetera. Ognuno che dice una cosa ma non sappiamo cosa utilizzare e arriva qua il dottor Luis Campos a fare un po' di chiarezza o almeno a cercare o ci provo a fare un po' di chiarezza che a volte nemmeno per me è chiarissimo. Io mi presento per chi non mi conosce ancora, io sono Luis Campos, sono un medico, sono un chirurgo, mi occupo di medicina e chirurgia estetica, lavoro e vivo a Milano, ma questo accento, ragazzi, non è milanese, non è italiano, sono spagnolo, da tanto tempo in Italia, felice, contento e ogni settimana in questo mio canale di YouTube vi parlo di skin care soprattutto, parlo anche di medicina estetica, un pochettino di chirurgia, ma soprattutto di skin care, di quello che voi potete fare a casa vostra, come lo faccio io a casa mia qua, per trattare la mia pelle, per ridurre i segni dell'imvecchiamento, per migliorare la qualità della pelle, per avere una pelle più luminosa e soprattutto fare un po' di chiarezza nel questo mondo di prodotti che non sappiamo cosa utilizzare. E questa settimana, se ti piace questo argomento, qua sotto c'è il link per iscriverti al mio canale e ogni settimana ti arriverà il messaggino del nuovo video facendo il campanello. Ricordati di schiacciare qua sotto il campanello, ti arriva la notifica di ogni giovedì quando pubblico un nuovo video. Se mi volete seguire su Instagram, sono su Instagram e anche su TikTok, io sono dappertutto a parlare di skin care, di bellezza, di cosmetica, di tutto. Questa settimana vi volevo parlare di pelle lucide. Cominciamo ad entrare nella bella stagione, speriamo, oggi fa un vento tremendo, ma cominciamo, come vi dico, ad entrare nella bella stagione. Chi soffre di pelle grassa questa stagione la detesta, perché? Perché comincia a vedersi lucida o lucido, non vuole mettere troppi prodotti perché appesantiscono ancora di più il viso e quindi c'è un'alternativa. O utilizzare pochi prodotti, ma a volte la pelle rimane poco nutrita, poco idratata, o utilizzare dei prodotti adatti per cercare di non avere un incarnato lucido, dando alla pelle tutti gli ingredienti sufficienti per l'antimbecchiamento e per una buona routine. Oggi vi parlerò della routine di giorno, perché quando ci interessa non essere lucidi, è di giorno, di notte è assurdo, perché di notte potete continuare a utilizzare i vostri prodotti di imbecchiamento, il retinolo, l'antimacchie, i sieri, i tonici con gli alfa idrosiacidi, i beta idrosiacidi per fare esfoliazione, ma di giorno ci interessa soprattutto che la pelle non si veda troppo lucida, va bene? Ma allo stesso tempo vogliamo nutrire bene la pelle, trattarla bene, a volte la pelle grassa può essere incluso sensibile e ha bisogno anche di antiossidanti per ridurre macchie e segni di imbecchiamento. Quindi ho scelto per poi uno, due, tre, quattro, cinque prodotti, ok? Per creare una routine di giorno antilucido, va bene? Ma che vada a trattare benissimo la pelle grassa, grassa normale o grassa resistente o grassa sensibile, qualsiasi tipo di pelle può utilizzare questa routine. Primo passaggio della routine, detersione, con questo prodotto, il Clinians di Aven, del laboratorio Aven. Perché ho scelto questo? Allora, innanzitutto perché contiene un ingrediente attivo che loro hanno brevettato e che lo chiamano comedoclastin, ok? Se non ricordo male, a base del cardo mariano e che va a trattare la pelle delicatamente per avvassare la quantità di grasso e di conseguenza non avere un incarnato lucido. Lo possono utilizzare un detergente specifico per persone che soffrono di pelle grassa e di acne ma lo possono utilizzare qualsiasi tipo di pelle perché è incluso la pelle sensibile perché contiene l'acqua termale del laboratorio Aven che va a venire il rosore. Per fare un'altra detersione, se volete, al mattino sarebbe sufficiente con una detersione ma se volete un detergente anche di utilizzare alla sera a base di olio o lo potete utilizzare anche al mattino questo Dermalogica, l'Oil to Foam, è ottimo perché inizia con un olio che viene derivato, mi sembra che era dell'oliveto spinoso, ok? E che a contatto con la pelle è un olio quindi tu lo muovi, ti rimuovi il trucco alla sera o lo puoi utilizzare anche di mattino poi applichi un pochettino di acqua e cambia da olio a schiuma e quindi crea una schiuma molto delicata con la pelle per rimuovere tutto il grasso, per rimuovere tutto il trucco e per se vuoi regolare la nostra pelle e quindi quello riesce a farlo benissimo essendo molto delicato con la pelle oltre a quello che vi dicevo l'olio dell'oliveto spinoso e questo contiene anche i prebiotici quindi va ad aiutare anche la pelle a essere equilibrata soprattutto quelle pelli sensibili oleose che sono tanto lucide, va bene? e rendetevi conto che questo prodotto serve per trattare la pelle grassa ed è a base di olio vedete perché olio porta via l'olio e adesso vedrete i prossimi prodotti anche come anche questi contengono a volte parte di olio il prossimo prodotto una volta che vi avete deterso la pelle bisogna dare alla pelle un antiossidante un siero antiossidante con degli ingredienti attivi che vadano a ridurre la carica di radicali liberi e di conseguenza vadano a trattare i segni dell'invecchiamento le macchie, la perdita di elasticità, la perdita di collagene la perdita di compattezza, le microrrughe eccetera il migliore in assoluto e per la pelle grassa va benissimo è la vitamina C e che prodotto vi presento? questo siero di Pavaglione Cosmetics è il Mist Illuminante e perché ho scelto questo? ho scelto questo perché è un siero in spray nella bottiglietta vedrete che non è un siero normale è un siero in spray quindi si spruzza sulla pelle su una pelle grassa utilizzare un prodotto così che è più liquido più leggero, più morbido è un beneficio, è una cosa in più perché se tu hai una pelle grassa metti prima un siero a base crema o a base, sì, a base crema o a base gel poi metti un idratante una crema idratante che è crema e poi metti una protezione solare quella pelle alla fine della routine è lucida quindi dobbiamo cercare che gli ingredienti che i prodotti che utilizziamo siano il massimo, il più leggero possibile ma che allo stesso tempo mi vadano ad idratare bene la pelle questo siero è leggerissimo perché è un spruzzo nel senso è liquido e perché riesce a essere liquido? perché loro hanno scelto un tipo di vitamina C neosomata neosomata che è un tipo un derivato della vitamina C che è il 3-O-etil-ascorbicazid il 3-O-etil-ascorbicazid non è la vitamina C pura ma si è visto nei studi scientifici che con concentrazioni più basse di questo ingrediente attivo si riescono ad arrivare agli effetti della vitamina C pura e tra l'altro più delicato per la pelle e penetra meglio nella pelle ok? quindi se la vitamina C pura è ottima e la difenderò tutta la vita il 3-O-etil-ascorbicazid è da tenere molto presente nella routine di skin care soprattutto se hai una pelle sensibile o soprattutto se hai una pelle grassa in questo prodotto liquido da spruzzare e siamo antiossidati e abbiamo applicato il nostro siero ci mancano due cose la pelle grassa tante volte grassa perché parte da una pelle che non è bene idratata quindi possiamo avere una pelle disidratata ok? che quindi cerca di idratarsi e cerca di creare grasso, 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 grasso per creare un film di protezione della pelle e di questo modo non perdere l'acqua che la pelle ha dentro quindi evitare l'evaporazione dell'acqua ok? la water loss evaporation non mi ricordo esattamente il termine in inglese non mi viene adesso in mente ma è quello per evitare la perdita di acqua epidermica transepidermica per evaporazione quindi la nostra pelle cerca di creare grasso, grasso, grasso grasso per quello che ci vediamo lucidi se vogliamo trattare una pelle grassa che è disidratata e che evidentemente per questo diventa lucida dobbiamo utilizzare un prodotto idratante leggero ma che va ad idratare tanto per quello vi ho scelto anche questo di Pavaglione Cosmetics è il fluido idratante ematificante matifying opacizzante di Pavaglione Cosmetics perché? innanzitutto perché un fluido quindi una texture molto delicata molto leggera molto liquida che non andrei impastare a pesantire l'incarnato ok? e dopo perché contiene degli ingredienti attivi che mi vanno a sebo regolare abbassare a riequilibrare l'incarnato e riequilibrare la pelle e abbassare la concentrazione e la quantità di sebo che crea la pelle ma idratando la pelle quindi abbiamo l'acido salicilico perché l'acido salicilico mi va a pulire bene il poro in profondità a sebo regolare e quindi a lasciarmi la pelle perfetta per abbassare la quantità di grasso e che mi penetrino e che vadano a penetrare scusate che non lo so declinare che vadano a penetrare gli altri ingredienti attivi poi contiene l'acido gialuronico l'acido gialuronico sapete che funziona come una spugna che richiama l'acqua e quindi richiamando l'acqua andrà a idratare la nostra pelle ma a volte questo crea un pochettino di disidratazione ma quando l'acido gialuronico va avvinato altri ingredienti è un avvinamento perfetto e vincente ok l'altro che contiene il fungo dell'arice il fungo dell'arice è astringente quindi mi va a purificare la pelle mi va a ridurre la quantità di grasso che crea la mia pelle e quindi me la va a preparare contiene anche l'avete rosso l'avete rosso mi va anche a riequilibrare a sebo regolare la pelle quindi a controllare la quantità di sebo che sta creando la mia pelle e anche per la pelle sensibile contiene l'aloe vera l'aloe vera andrà a idratare ma soprattutto a lenire quella pelle perché una pelle a volte una pelle grassa può essere una pelle sensibile come vi dicevo una pelle disidratata dalla base quindi questo fluido opacizzante il fluido mattifying di pavaglione cosmetic va a lavorare molto bene per lasciare la pelle idratata lenita non arrosata e che non ci sia del lucido ok e ci manca l'ultimo passaggio della skin care routine della routine di skin care che sarebbe la protezione solare e questo è sempre un drama per chi soffre di pelle lucida perché non sapete che protezione solare utilizzare non volete essere unti la dovete riapplicare diverse volte al giorno soprattutto adesso che entriamo nella bella stagione voi dite ma che cavolo mi metto io sul viso per cercare che questo viso non sia lucido e sia idratato perché mi sono messo prima il siero spruzzato di pavaglione cosmetics a base di vitamina C che mi va antiossidare e mi va a dare luminosità all'incarnato a dare più luce senza dare lucido all'incarnato io questo lo confondevo all'inizio quando ero in Italia confondevo questo di luminoso lucido e lo confondevo ma quello che darà il siero è luminosità all'incarnato senza renderlo lucido perché come dice è un'acqua e poi utilizzo il fluido opacizzante di pavaglione cosmetics che mi va ad irratare mi va a delenire mi va a togliere quel lucido della pelle e adesso che protezione solare metto ok vi ho scelto questa di Aderma la Protec AC ok che è una protezione solare intanto è una 50 il fluido è un fluido molto leggero e quando si va applicare è un tocco secco quindi non va a creare lucido perché perché quel tocco secco viene dato dalle polveri che contengono che sono polveri opacizzanti che state tranquilli perché non vanno a bloccare i pori e non faranno venire i bruffoli e poi contiene queste polveri e contiene anche l'olio d'avena ok e quindi questo mix di ingredienti fa sì che da una parte l'olio di avena mi va a proteggere la barriera dermoepidermica la barriera di protezione della pelle la fosfolipidica della pelle da un'altra parte queste polveri opacizzanti mi vanno a togliere il lucido di modo che non si veda lucido ma sorprendentemente è anche resistente all'acqua quindi lo potete utilizzare anche di estate quando andate in piscina quando andate al mare quando volete soprattutto al mare perché è rispettoso anche con l'oceano quindi gli ingredienti che ha gli ingredienti attivi che ha come è stata formulata questa protezione solare opacizzante leggera per la pelle è anche rispettosa con con gli oceani quindi come avete visto vi ho creato una routine al mattino sono quattro passaggi la detersione che la potete fare con il detergente di aven o con il detergente di dermalogica ok io quello di dermalogica forse lo lascerei per la sera perché se avete la protezione solare se avete il trucco è meglio utilizzarla alla sera se invece al mattino invece di un detergente schiumogeno come quello di aven vi fa più piacevole un oleoso questo di dermalogica è ottimo perché passate dall'olio a una schiuma leggera e lenitiva quindi se la pelle è sensibile va meglio questo poi passiamo al siero a base di vitamina C antiossidante di pavaglioni cosmetics il mist illuminante di pavaglioni cosmetics ottimo spruzzato rinfrescante poi al loro fluido opacizzante il fluido mattifine che va a idratare come vi ho detto anche se vuole regolare e per ultimo la protezione solare quindi in quattro passaggi con quattro prodotti avrete una pelle detersa antiossidata nutrita idratata e protetta e la cosa più importante non lucida quindi vi consiglio di provarli perché sono sono veramente belli questi prodotti allora io sono arrivato alla fine penso di aver detto tutto quello che vi dovevo dire penso di essere stato di aiuto almeno quello cerco con i miei video se avete domande se avete perplessità se avete commenti da fare li potete fare qua sotto ma ricordatevi come lo dico in tanti video che non riesco a leggere tutti non riesco a rispondere anche perché youtube a livello del cellulare è più scomodo quindi se avete domande se avete commenti eccetera andate sul mio instagram andate no volevo dire quello andate sul mio instagram e lì se mi iscrivete in privato o anche in pubblico eccetera vi rispondo le vostre domande ricordatevi qua sotto se vi è piaciuto il video fare così se non vi è piaciuto il video fate così ricordatevi anche di fare iscriverti di modo che tutte le i giovedì quando pubblico un nuovo video fate il campanello anche vi arriva la notifica e mi potete seguire come dicevo su instagram su tiktok la prossima settimana mi potete seguire su questo canale perché prossimo giovedì sarò di nuovo qua a parlarvi di skin care di bellezza di come fare di che fare di cosa scegliere in questo mondo della cosmetica e sempre cercando di darvi una mano nella scelta giusta o almeno la più adatta per la vostra pele vi saluto vi auguro una bellissima giornata e io ho finito adesso continuo a fare altre tante cose grazie ciao 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 Ciao!